Amore mio. Facciamo una gara, come facevamo a Siwa? No, solo se hai voglia di perdere. Ma parole te la cavi. Adesso vediamo i fatti. Sei lento! Che cosa si vince? Non lo saprai mai. Sei più lento di Ramsette e lui è morto da un pezzo ormai. Non puoi tenere quella velocità! Vedremo. Più veloce, bestia forza! Devo fargliela vedere! A quanto pare ho vinto io. Pare di sì. Ah, ognuno ha un punto debole. Già, il tuo è vincere con eleganza. Che succede qui? La regina sta per parlare. Andiamo ad ascoltarla. Per colpa loro! Gli dèi maledicono l'Egitto! Le esondazioni sono cessate. Ma nel momento in cui la dea vivente salirà al trono, l'acqua risalirà ancora una volta. Con me, Menfi potrà brillare come un rubino al sole. Con me, l'Egitto trionferà! Grazie! Non posso perderli. Devono sapere che la mia voce è quella della Dea. Mia regina! Il toro api continua a stare male? Abbiamo scoperto il motivo del suo male. È stato avvelenato. Chi è stato? Le sacerdotesse gemelle. Che siano bolliti a morte nel toro di Falaride. Mia Dea, no! Sono state costrette. Il fratello è stato rapito da un sacerdote di Anubi che aveva la tosse e una sciarpa blu. Etepi! Ma è uno dei miei più fidati consiglieri. Chi rimane all'ombra di qualcuno è colui di cui bisogna dubitare. Se anche Etepi trama contro di me... Tua moglie e tuo figlio erano in pericolo, ma ora sono in salvo. Possiamo sistemare tutto. I sacerdoti di Anubi hanno in programma dei rituali al Grande Tempio. Avranno delle maschere. La mia lama sarà altrettanto efficace. No! Aia! Vado io! Non mi interessa chi ucciderà il sacerdote, che sia fatto prima della partenza per Eracleion. Aspetta! Che il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. Che il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. Che il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. Che il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. Ehi! Hai bevuto troppo! Tornerai ad uccidere, quindi. Dimmi. Come puoi accettare tutto questo? A volte. Un rituale è tutto ciò che separa un uomo dalla follia. Ogni volta che il mio corpo è bloccato in uno scontro. Le mie ferite contro quelle che ho infritto. Ogni volta che sento il loro spirito andarsene. Rendo onore con una preghiera. La preghiera non è per i morti. O per gli dèi. È per me. Il mio credo dà un senso a ciò che non ha scopo. Una forma a ciò che non ne ha. Senza. Non potrei uccidere. Meglio tu non senta le parole che mi rendono capace di uccidere. Ora va. Tu hai salvato il mio loto. Te ne sarò eternamente grato. Che Ptà colpisca con forza i nostri nemici. E si ammite con chi ci è caro. Che Ptà colpisca. Che Ptà colpisca. Grazie.